Partita perfetta da tutti i punti di vista, siamo partiti alla grande, oggi ha messo tutto il nostro valore, sono molto contento perché i ragazzi si volevano rifare dopo la brutta prestazione, ma c'è il brutto risultato domani sabato con il Fontanelle, sono molto contento. Siamo partiti a 2.000 all'ora, siamo andati a aggredirli alti, loro non riuscivano a giocare perché è una squadra che gioca veramente a calcio, una squadra forte e poi siamo stati bravi nel concludere in porta, nel fare gol nelle prime due occasioni che sono capitate, siamo stati cinici per la prima volta e oggi si è visto. A livello mentale è importantissima, però noi dobbiamo capire che per raggiungere il nostro obiettivo ci vuole sempre questo atteggiamento, non basta solo affrontare la Turris perché noi dobbiamo avere questo atteggiamento con tutte le squadre perché abbiamo un obiettivo importante da raggiungere a fine anno, ti dà grosso morale però dobbiamo rimanere sempre con i piedi per terra perché è vero che abbiamo fatto un grosso risultato però non abbiamo fatto nulla. Volevamo riscattarci dalla sconfitta di domenica scorsa, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, siamo contenti per il risultato e siamo contenti per la vittoria. Per quanto riguarda i gol, il secondo onestamente nemmeno l'ho visto perché ero a terra dolorante, però sono contento di come è andata, sono contento di aver dato un contributo per la vittoria. Me lo aspettavo perché durante la settimana abbiamo notato che ci siamo confrontati tanto e abbiamo alzato pure il livello di allenamento e è ovvio che fare partite del genere ci fa prendere tanta autostima e ci permette di dire la nostra anche nelle prossime partite di campionato.